Buona serata a tutti, benvenuti e ben ritrovati a Mila d'Albice in questa meravigliosa festa. Io volevo ringraziare a me, probabilmente tutto il personale, in questa meravigliosa manifestazione. Vi ringrazio anche perché l'ha appiccita veramente ottima. Bambini, fate un applauso alle cuoche, ai buoni, che sono veramente bravissimi. Caporetti buoni, tutto buono, tutto buono, bravissimi. Che buono, che buono, mi sono mangiato due piatti. Poi si vede, poi mi sbattisco in alto modo, dai. Adesso invece partiamo subito, partiamo con le nostre canzoni. Visto che questa sera sotto il calzico bianco troverete anche il disco nuovo della mia orchestra, vi voglio far ascoltare anche alcune delle canzoni nuove. Partiamo con la mia nuovissima cumbia, me la voglio dedicare, arriva Notte di Luce ed appunto con questo operato vi auguriamo ufficialmente una buona serata e un buon evento di nostra e nostra copertura. Dai che si partano le tante. Grazie. 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 Grazie.